Alessandra Ambrosio alla MFW, pizzo nero e trasparenze Alessandra Ambrosio, look casual sopra e super sexy sotto. La bellissima Alessandra Ambrosio è sbarcata qualche giorno fa a Milano per la settimana della moda e dal primo momento in cui ha messo piede nella capitale italiana più glamour non ha fatto altro che sfoggiare un outfit meraviglioso dietro laltro. Ha iniziato per Alberta Ferretti con la nuova collezione della Rainbow Week, indossando un fantastico mercoledì color lilla, un look casual ma carico di charme, visto il successo tra tutte le sue colleghe VIP di questa linea di t-shirt e maglioni. . E il terzo look? Ha unito il casual mode del primo con la spiccata sensualità del secondo, dando vita a un mix-and-match style davvero molto in voga al momento. . Di cosa stiamo parlando? Partiamo dall'inizio, cioè dal capo, Alessandra indossa un baschetto nero molto chic, che allude già alla Paris Fashion Week, in partenza nella capitale francese proprio oggi. . Proseguiamo con il look scendendo a livello di spalle e décolleté, la brasiliana indossa una giacca in pelle nera piuttosto rock, con punti luce dorati lungo tutte le cuciture e una tigre molto grintosa che trionfa gloriosa nella parte posteriore. . Dopo un look casual ma con una certa dose di sprint, arriviamo alla parte più sensuale dello outfit di Alessandra, sotto la giacca, in pendant con un paio di stivali total black, spunta un abito lungo fino ai piedi con una gonna di pizzo nero trasparente che lascia intravedere le gambe dell'Ambrosio in tutta la loro interezza. . La mamma di Ania e Noa si gira verso l'obiettivo, con uno sguardo penetrante e profondo, mentre si avvia per le strade della Milano Fashion Week in tutto il suo sexy charme super originale. . Alessandra Ambrosio, vacanze finite, impegni a go go. Ora abbiamo capito perché Alessandra Ambrosio abbia fatto il pieno di momenti di relax quest'estate, da quando è tornata dalla Polinesia, in effetti, non si è mai fermata un attimo. La modella ha fatto il giro del mondo durante le ferie, concedendosi attimi di relax in USA, dove vive, in Brasile, Europa e Polinesia, ma appena tornata la casa base gli impegni lavorativi sono fioccati come le neve del prossimo inverno. . Per prima cosa, l'angelo di Victoria's Secret ha posato per la nuova campagna della Maison di Lingerie, poi ha presenziato sul palco degli MTV VMA 2017 in un look assolutamente sexy e, infine, ha sfilato per le settimane della moda dell'autunno. . E ora, quale sarà il prossimo appuntamento dopo la MFW?. .